Sai, ho pensato che l'economia fa schifo, il mio lavoro fa schifo, è l'unico modo per migliorare le cose e occuparmene personalmente. E quindi cosa intendi fare? Voglio partire con un network marketing. E che cos'è un network marketing? Una compagnia che fa network marketing ti permette di creare il tuo business con una rete di promotori e clienti che consumano i prodotti venduti dalla compagnia. Mi sembra una di quelle cose piramidali. Quali cose piramidali? Sì, intendo quei sistemi in cui guadagnano un sacco di soldi solo quelli in cima alla piramide, come l'azienda per cui lavori adesso. Ma non devi entrare tra i primi per guadagnare qualcosa? Veramente? In un network marketing fatto bene, puoi guadagnare di più di chi ti sta sopra se ti impegni e diventi più produttivo di loro. Sicuro che non sia uno schema piramidale? Certo! E come fai a esserne sicuro? Un sistema piramidale è un sistema dove devi reclutare persone, ma in realtà non c'è nessun prodotto da scambiare. A me sembra sempre un sistema piramidale. In un network marketing di una compagnia seria guadagni denaro principalmente dalle persone che usano il prodotto. A me sembra sempre un sistema piramidale. Spiegati meglio? Perché se lo ingrandisce assomiglia a una piramide. E questo che cosa c'entra? A me sembra sempre un sistema piramidale. Se provi a disegnare l'organizzazione dell'azienda per cui lavori ora, che forma avrebbe? Una piramide. Se provi a disegnare l'organizzazione della chiesa in cui vai di solito, che forma avrebbe? Una piramide. Se ti dovessi trovare a disegnare il grafico di un'organizzazione di scout, che forma avrebbe? Una piramide. Capisci che cosa voglio dire? Sì. Non pensavo ci fossero così tanti schemi piramidali là fuori nel mondo. Pensi davvero di riuscire a guadagnare qualcosa con questo network marketing? Secondo il Dipartimento del Lavoro Americano e l'Associazione per la Vendita Diretta, usando lo stesso tempo e impegno, ho 5 volte più possibilità di guadagnare 100.000 euro con il network marketing che non in tutta la mia vita con il mio lavoro attuale. Sì. Anche io odio il mio lavoro. Ed ecco perché gioco tutte le sere all'otto dopo il lavoro. 16, 22, 84. Forse dovresti aprire anche tu la tua attività di network marketing invece di lasciare al caso il tuo futuro. Ma ho sentito persone dire cose negative sul network marketing. Chi? Mio cognato. È benestante? No. Possiede un'attività improprio? No. Pensi che lo potresti considerare un esperto del settore? No. Pensi che lo potresti considerare un esperto in qualche settore? Non esattamente. Ma perché alcune persone dicono che il network marketing non funziona? Beh, per lo stesso motivo per cui dicono che il piano per la sicurezza nazionale del nostro governo è sostenibile. Totale ignoranza. Ma ci sono degli esperti che sostengono il network marketing? Hai mai sentito di Robert Kiyosaki, l'autore di uno dei più venduti libri di finanza di tutti i tempi? No. È un grande sostenitore del network marketing. Lo considera il business perfetto. Hai mai sentito di Donald Trump? Sì, quello con i capelli buffi. Anche lui è un sostenitore del network marketing. Hai mai sentito di Warren Buffett, il più grande investitore di tutti i tempi? No. Anche lui è un sostenitore del network marketing. E tu pensi che questi siano esperti più credibili di mio cognato? Sì. A me sembra sempre un sistema piramidale. Mi prendi in giro? Sei stato ad ascoltare tutto quello che ti ho detto finora? Sì, ma a me sembra sempre un sistema piramidale. Scusa, mi puoi spiegarti meglio? Penso solo che mi sembra un sistema piramidale. Vabbè, senti, è ora di andare. Aspetta, ma non stavi cercando di reclutarmi? No. Perché no? Hai detto che ti sembra un sistema piramidale. L'ho detto, però adesso vorrei iscrivermi. Preferirei camminare in mezzo al traffico con le dita infilate negli occhi piuttosto che avere un idiota come te nel mio gruppo. Oh. Vabbè, allora ci sentiamo più tardi, va bene? Non credo proprio. No. Vabbè. Grazie a tutti.